14 persone sono state deferite in stato di libertà dalla Polizia Municipale di Modica alla Procura della Repubblica di Ragusa per inosservanza di ordinanze emesse dal Sindaco. In particolare nel corso della stagione estiva, a seguito di servizi di controllo del territorio appositamente predisposto dal Comando, è emesso che alcuni proprietari di immobili non avevano avuto cura di provvedere alla scerbatura di giardini o terreni in modo da evitare pericoli di incendio. Nei loro confronti, su segnalazione del nucleo operativo di polizia edilizia ed ecologica, il Sindaco aveva emesso ordinanza attraverso la quale intimava i proprietari di provvedere immediatamente alla polizia delle rispettive proprietà. Sono stati centinaia i provvedimenti a firma del primo cittadino. Sei persone, a seguito di ulteriori accertamenti, sono risultati inadembienti per cui, nei loro confronti, è scattata la denuncia essenziale dell'articolo 347 del codice di procedura penale. Le altre otto persone deferite sono accusati di reati di natura urbanistica accertati nel corso di appositi controlli sempre da parte del NOPE. Complessivamente l'organismo della polizia locale ha effettuati per entrambe le questioni 42 sopralluoghi.